Weekend di Ferragosto Torrido, caldo e AFA la faranno da padrone anche nelle prossime ore. Proprio per la giornata di domani ci sarà l'apice del caldo, ma da lunedì è previsto il calo delle temperature. L'anticiclone che ha roventato l'Italia ha dunque i giorni contati. Il suo strapotere giungerà al massimo proprio a Ferragosto, poi abbandonerà lentamente la penisola. Secondo il Meteo.it, oltre alla giornata di oggi, anche la domenica di Ferragosto sarà bollente, soleggiata e affosa. Il caldo si sentirà un po' ovunque, con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Tra le 10 città italiane più calde c'è anche Taranto. Giornate da Bollino Rosso per il traffico, in particolare nelle ore pomeridiane e serali di domenica 15 agosto, su tutte le arterie regionali, sia quelle a scorrimento veloce che le strade che costeggiano il mare. Intanto, come conseguenza delle elevate temperature di questi giorni, arriva il conto economico degli incendi. Secondo una stima di col diretti, è di oltre 10.000 euro ad ettaro il costo per la collettività dell'emergenza. Ai costi immediati per le operazioni di spegnimento e ai danni, ricorda col diretti, vanno aggiunti quelli a lungo termine per la bonifica delle aree e per far rinascere l'ecosistema forestale e tutte le attività umane tradizionali, dalla raccolta della legna a quella di tartufi e dei piccoli frutti, dalla ricerca dei funghi all'ecoturismo, un percorso per il quale sono necessari circa 15 anni.